Al Lampo delle Mine Nelle case di Brosso quasi ogni famiglia aveva un minatore, si cominciava a essere minatori molto giovani, quindi sugli 11-12 anni si lasciava la casa, si lasciavano gli affetti, i genitori e chi era sposato con anni più avanti, i figli, la moglie, per lavorare un pochino in tutte le miniere. Proprio negli anni, verso la fine del 1800, mio nonno Michele, nativo di Succinto ma che aveva sempre abitato a Brosso, lascia in tenera età, molto molto giovane, la sua casa per recarsi in Svizzera per fare l'apertura del traforo del Gottardo. Molti di questi minatori, lasciando la loro terra, portavano nei paesi dove andavano a lavorare i loro strumenti musicali e le loro voci e durante il periodo di pausa si riunivano e cantavano le canzoni loro della Valchusella. E appunto in uno di questi incontri, di queste serate, mio nonno da Airolo, che è ai piedi appunto del Gottardo, si era recato a Bodio e lì rimane, così diceva mio nonno, folgorato dagli occhioni di una ragazza molto giovane, Maddalena. Terminarono i lavori del Gottardo, mio nonno dovette lasciare a mano in cuore la sua Maddalena fidanzata e ritornò in Italia dove andò a lavorare a Roma. Dopo due o tre anni, messo a parte una discreta somma, ritornò e sposò mia nonna.